Mauro Motto, oggi è il tuo compleanno, forse era ieri. Cosa si prova anche a essere in prima griglia? Grazie a te sono in prima griglia perché mi hai detto che mi hai regalato la griglia per il mio compleanno, quindi è una cosa bella. Grazie a tutti, non me l'ha solo veritata. Mauro, come è andata la tua gara? È andata benissimo, sono contento, l'ho finita, è andata benissimo. Senti di categoria? Nono. Nono, va bene. Però sono il 97% assoluto, quindi già stare di 100% per me è un traguardo, quindi è andata bene così. So che va tutti forte qua. Senti, ma i tuoi compagni per il tuo compleanno cosa ti hanno regalato? Niente, come al solito, anzi hanno voluto pure da bene. Grazie. Considera che il ragazzo ha appena compiuto 50 anni, quindi gli facciamo tutto il team, gli fa grandi auguri. Quindi qual è il miglior risultato a 50 anni, arrivare in uno di categoria? Eh beh, certamente. Senti, quindi è nel mezzo del cammin della sua vita. Assolutamente, anzi siamo all'inizio della sua grande vita. Sperando che resista a 100 anni, che sa la moglie. Mauro è eterno. Grazie.